Taranto concentrato sulla prossima stagione, ma sono giorni soprattutto importanti in chiave burocratica. A stretto giro la società dovrà ottemperare diversi obblighi relativi all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, il terzo consecutivo sotto la gestione Giove. La prima deadline è quella del 15 giugno. Entro quella data, inderogabilmente, la società dovrà ricevere la licenza d'uso relativa all'utilizzo dello stadio Iacovone. Ciò che ne conseguirà nei mesi successivi rispetto al trasferimento della squadra in un altro impianto verrà poi valutato in un secondo momento. Entro il 20 giugno, invece, bisognerà consegnare la domanda di iscrizione, un plico articolato all'interno del quale allegare anche la fideiusione e i vari documenti attestanti la regolarità dei pagamenti da parte della società nei confronti dei tesserati per quel che riguarda le aspettanze della stagione conclusa si oltre un mese fa. Nel giro di una settimana sarà poi la Covisocca a stabilire se la domanda di iscrizione è idonea oppure no. Superate le dinamiche burocratiche, il Taranto potrà poi concentrarsi sulle pratiche prettamente tecniche di campo in vista del ritiro precampionato di Casha. I Rosso-Blu torneranno in Umbria a distanza di tre anni. L'ultima volta, infatti, fu a Pietralunga nell'anno della promozione in Serie C. I Rosso-Blu torneranno in Serie C.